Nuovo permesso di costruire concesso dalla giunta Galimberti che ha consente alla realizzazione di un'area commerciale da 2453 metri quadrati lordi in via Eridano lungo la tangenziale dove un tempo sorgeva l'attività di Eridano gomme il cui edificio è stato abbattuto nei giorni scorsi. È una media struttura di vendita non un centro commerciale che sorge su un terreno che era già di proprietà comunale ed è stato ceduto dall'amministrazione per oltre 300 mila euro alla ditta Acquaterra di Brescia che si sommano a 130 mila euro di oneri di urbanizzazione come precisato durante l'ultima riunione di giunta mercoledì 3 maggio quando anche la convenzione è stata approvata. L'incasso servirà a finanziare il piano delle opere pubbliche. Nulla più in via Eridano che una spianata di cemento adibita a parcheggio e poco o per nulla utilizzata accanto alla extrafineria Tamoil. Per l'assessore Andrea Virgilio non c'era motivo per cui il comune dovesse conservarne la proprietà. Sorgerà una media struttura di vendita dalla catena Mauris di articoli per la casa diffusa soprattutto nel centro Italia e si creeranno alcuni posti di lavoro. In vendita ci saranno prodotti per la casa, articoli casalinghi, di igiene personale, bricolage, mobili di legno, nessun genere alimentare e secondo le previsioni della giunta Galimberti nessun impatto negativo a danno del centro storico. L'assessore Virgilio contrapponendosi in modo frontale alla versione degli ambientalisti sostiene che la giunta non è responsabile di alcun consumo di suolo perché non ha mai modificato la destinazione d'uso da agricola a verde e poi edificabile. In via Flaminia dove si sono concentrate le proteste delle associazioni ambientaliste il cantiere delle nuove abitazioni non è ancora partito a causa della mancanza di richieste. Da quanto si sa la ditta idile avrebbe deciso di non firmare la convenzione prendendosi ancora alcuni mesi fino all'inizio del 2018. Restano attivi però i 32 ambiti di trasformazione ereditati dalla giunta Perry. L'amministrazione contro le richieste degli ambientalisti ha scelto di non revocarli per evitare ricorsi al TAR. Tra i prossimi progetti spicca la costruzione di un nuovo molo lungo il Po con un punto di ristorazione e la possibilità di salire su barche leggere senza prenotazione per navigare sul Po. Non ha ancora ricevuto il via libera della soprintendenza invece il supermercato di via Giordano dell'ex SNUM, la vecchia società di nettezza urbana.